Bene, video di recensione di questo utilissimo accessorio per attaccare la GoPro ovunque Vediamo Una pinzetta veramente molto dura Una volta attaccato Vedete che ha un grip quindi riesce a tenere il peso della GoPro Possiamo decidere di cambiare angolazione Dov'è che possiamo attaccare questo portaco pro? Lo possiamo attaccare praticamente ovunque Ovunque ci sia qualcosa di piatto Ad esempio la bretella dello zaino Ma adesso vi faccio vedere qualche idea Per questo eccezionale accessorio per la GoPro Veramente eccezionale e anche economica Adesso vedrete quanto costa Allora, vediamo che si attacca facilmente alla fascetta dei cappellini Chiaramente se il cappellino è attaccato bene alla testa Quella tiene molto bene Lo possiamo mettere nel frontale dei cappellini E quindi avere un accessorio che si adatta in un attimo ad esempio allo zaino Questa è la capacità di regolarsi, vedete, verso il basso Che ce lo rende praticamente l'accessorio proprio ideale per lo zaino In un secondo la nostra maglietta può diventare la nostra imbracatura E quindi per un'imbracatura veloce Non chiaramente per gli sporti super estremi Però per un'imbracatura veloce di tipo da passeggio Questa va benissimo Ci tiene la nostra GoPro assolutamente ferma Vediamo che chiaramente può andare bene sia alla spalla destra che alla spalla sinistra Perché ha la capacità di muoversi in tutte le direzioni Quando si muove, si muove con uno scatto E quindi la rigidità che ha è sufficiente per tenere la GoPro I posti più impensati ragazzi Con mille e centini che vi trova gli accessori più fichi su Amazon Un qualsiasi supporto Il vetro diventa un posto dove poter attaccare la macchina E farci da cavalletto momentaneo Chiaro, non per sport estremi La stessa cosa La nostra bicicletta ci può sostenere la GoPro E vediamo che è disponibile su Amazon anche una versione con lo sgancio rapido In questo caso però costa 11 euro Però la spedizione è prime Quindi estremamente veloce, estremamente affidabile Mi raccomando pollici in su E guardate il link in descrizione Link in descrizione